Bene, parliamo del bizzarro mondo dei quanti. Per farlo mi servirò un po' di aneddoti ripresi da un importante filosofo e scienziato del nostro secolo, Erwin Laszlo, a cui mi riferirò per esporre appunto questo tipo di argomento, ossia appunto il bizzarro o strano mondo dei quanti. Bene, diciamo subito che un fenomeno fondamentale che riguarda i quanti è quello che viene denominato oggi col termine di entanglement, che vuol dire intreccio. Mi auguro che dopo che avrò esposto le mie considerazioni circa questo argomento sia sufficientemente chiaro questo concetto complesso e paradossale della fisica contemporanea che, ripeto, va sotto il nome, sotto la denominazione di entanglement. Bene, allora diciamo subito che nel loro stato originale i quanti non si trovano in un solo posto in ogni dato momento. Ciascun quanto è sia qui che là, in un certo senso è ovunque nello spazio-tempo. Poi, finché non vengono osservati o misurati, i quanti non hanno caratteristiche definite, ma invece esistono simultaneamente in diversi stati nel medesimo tempo. Questi stati non sono reali ma, tra virgolette, virtuali. Cioè, si tratta di stati che i quanti possono assumere quando vengono osservati o misurati. È come se l'osservatore o lo strumento di misurazione di osservazione, diciamo così, pescasse, come un pescatore, da un mare di possibilità. quando un quanto viene in qualche modo estratto, pescato, da quel mare attraverso l'osservazione, esso diviene un determinato pesce, diciamo un pesce reale e non più virtuale. Ma non possiamo mai sapere in anticipo quale dei possibili pesci o animali reali esso diventerà. Pare che scelga il quanto, scelga i suoi stati reali, diciamo così, per conto proprio, tra i vari stati virtuali che ha a disposizione. Poi ancora, anche quando il quanto si trova in uno stato reale, non ci consente di osservare e misurare tutti gli altri parametri, le altre caratteristiche del suo stato nel medesimo tempo, nel medesimo istante. Quando misuriamo una caratteristica, un parametro del suo stato, per esempio, non so, la sua posizione oppure l'energia che ha in quel momento, un altro parametro o altri parametri, altre caratteristiche, divengono per noi così offuscate, non chiare. Per esempio, la velocità non riusciamo a misurarla, il tempo di osservazione non riusciamo a percepirlo, e via dicendo. Ancora. I quanti, potremmo dire con un'espressione di Laszlo, sono fortemente sociali. In che senso? Una volta che i quanti condividono un certo tipo di situazione, un certo tipo di relazione, restano collegati indipendentemente dalla distanza che poi percorrono gli uni rispetto agli altri. Quando un quanto, appartenente per esempio ad una coppia di quanti che in precedenza in qualche modo sono stati collegati, viene sottoposto ad una qualche azione o interazione, per esempio viene osservato, viene misurato, il quanto sceglie, tra virgolette, il proprio stato reale, non più virtuale. Ma anche il suo gemello, quello con cui è stato in relazione, anche se a distanza considerevolissima, sceglie un proprio stato, ma non liberamente, non liberamente perché lo sceglie in base alla scelta che ha fatto il proprio gemello. Il secondo gemello, cioè, sceglie sempre uno stato in relazione al primo, ma che è complementare rispetto a quello del gemello che ha avuto il primo cambiamento, diciamo, o il primo stato di osservazione. Non è mai uguale a quello del gemello, è in qualche modo complementare. complementare. Ancora, all'interno di un sistema complesso, come per esempio, non so, il sistema che si forma quando c'è uno stato di osservazione di un esperimento in fisica, per esempio, quindi all'interno di un sistema i quanti mostrano comportamenti sociali. In che senso? Come abbiamo già detto, se misuriamo uno dei quanti del sistema, gli altri passano anch'essi da uno stato virtuale ad uno stato reale. È una cosa ancora più strana. Se creiamo una situazione sperimentale in cui un certo quanto, un dato quanto, può essere misurato individualmente, tutti gli altri quanti divengono reali a loro volta, cioè passano da uno stato virtuale a uno stato reale, anche se l'esperimento non viene eseguito su di loro. Sono tutte caratteristiche che, esposte adesso in maniera così discorsiva e un po' anche, diciamo, schematica e forse superficiale, hanno fatto sì che la meccanica classica abbia avuto grosse difficoltà, abbia ancora grosse difficoltà a intendere perché la meccanica quantistica, perché c'è quella caratteristica appunto che noi definiamo di controintuitività. La nostra intuizione non ce la fa direttamente a comprendere queste caratteristiche che però sono dagli sperimentali.